È durato poco più di un'ora questa mattina qui al Centro Sportivo Angelo Moratti l'allenamento dei Neroazzurri dopo la sfida di ieri sera contro il Novara. Come di consueto, il giorno dopo la partita, la squadra è stata suddivisa in due gruppi. Nel primo c'erano i giocatori maggiormente impegnati nel match di ieri sera al Meazza. Per loro stretching, corsa e lavoro di scarico tra piscina e palestra. Nel secondo gruppo invece c'erano quei calciatori meno impegnati ieri sera con il Novara o che non sono scesi in campo. Per loro allenamento tradizionale sul campo con riscaldamento, stretching, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Sedute individuali programmate di recupero invece per Freddy Guarin e Walter Samuel. I Neroazzurri si ritroveranno qui al Centro Sportivo Angelo Moratti nella mattinata di domani per il secondo allenamento in vista della sfida contro il Bologna che si giocherà venerdì sera alle 20.45 al Meazza. Per tutte le altre notizie sul mondo Inter, il canale è il 232 di Sky Inter Channel.